Circa 150 statuette e 250 sarcofagi sono stati scoperti nel sito archeologico di Sakkara, in Egitto, a sud del Cairo. È solo uno degli ultimi ritrovamenti nella vasta necropoli dell'antica capitale Menfi, sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Tra le statuette ce n'è anche una che raffigura Imhotepa, spiegato Mostafa Waziri, a capo del Consiglio Supremo delle Antichità Egiziane, l'architetto che nel terzo millennio a.C. costruì la piramide a gradone di Djoser, una delle prime dell'antico Egitto, e in seguito considerato anche come dio della medicina. Le altre statuette rinvenute raffigurano dèi e dèe, tra cui Anubio, Siride, Iside e Hathor. Ci sono anche due statue di bronzo a lutto, ha detto Ashraf Owais, segretario generale del team di restauro dell'antichità di Sakkara. Queste due sono incredibili, quando le abbiamo trovate eravamo spaventati perché solo il suono del nostro respiro faceva rumore sullo strato esterno del bronzo. I sarcofagi in legno contengono mummie risalenti al V secolo a.C. In uno di loro è stato ritrovato un papiro intatto e sigillato di circa 9 metri, che sembra contenere alcuni capitoli del Libro dei Morti, raccolta di testi funebri che gli egizi usavano per guidare i defunti attraverso gli inferi. Ora i sarcofagi saranno trasferiti al Grande Museo Egizio, ha spiegato Mustafa Waziri. Come per le scoperte effettuate nel 2020, i reperti sono stati trasferiti al Grande Museo Egizio e in altri musei. La missione archeologica ha completato il suo quarto scavo a Sakkara dal 2018 e ne condurrà un quinto a settembre.